Mi presento... Salve, sono Pietro Rico... Lo Spamico... E vi sto per raccontare una storia che mi ha fatto tanto male... Era un bel giorno divertente e non si faceva assoluto in niente... Già di la carpa mi diceva... E un po' che se la godeva... Ma all'improvviso il detersivo... Sono diventato un fortitino... E ho visto Johnny bocceggiare... Degli altri pesci morti... Galleggiati... Laggiù... In fondo all'acqua... Stava soffato l'assassino... Teneva in mano... Un vuoto giustino... L'acqua era bianco un po' schimosa... La fine dei miei amici vergognosa... Vado a pescare col detersivo... Mi sembra proprio un bel detersivo... Non c'è più vita ormai laggiù... Il mio amico Johnny non c'è più... Non c'è più Johnny ormai laggiù... In fondo allo staglio... Sul prato c'era una margherita calpettata... Nel prato... C'era il mio amico... Johnny... Assassinato... Un mattuer casino... Corri... Cysc实... Cysc... Cysc... Daffa... Cysc... 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 Grazie a tutti